Una buona giornata e bentornati a weekend sabato. Come sempre nella prima parte le notizie della notte e nella seconda i consueti approfondimenti. Cominciamo con l'emergenza coronavirus. Si registra il primo morto nel nostro paese. Si tratta di un anziano di 78 anni che è deceduto all'ospedale di Padova. L'uomo è ricoverato già da dieci giorni per precedenti patologie. Intanto il Premier italiano conta il termine della riunione straordinaria della protezione civile al quale ha partecipato anche il Ministro della Salute e Speranza. Rassicura la popolazione dicendo di aver messo in quarantena tutte le persone che sono venuti in contatto con casi certificati. Abbiamo preso tutte le misure e saremmo disponibili a valutarne ulteriori se necessario. Intanto gli italiani in momento positivi al virus sono 16 in Lombardia ed uno in Veneto. Vedete come abbiamo detto prima il diciottesimo l'anziano di 78 anni. Non ce l'ha fatta. Andiamo adesso a parlare della riunione dell'Unione Europea. Ieri a Bruxelles non è stato possibile raggiungere un accordo. Serve più tempo. L'ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Michel al termine del vertice sul bilancio economico. Tra i 27 le divergenze sono ancora troppo grandi. L'Italia ha ricevuto mandato con Romania e Portogallo per elaborare una controproposta in linea con un disegno più ambizioso. Così anche ha messo in evidenza il Premier Conte che sottolinea come gli sconti che alcuni paesi hanno sul contributo al bilancio comune europeo non si giustificano più. La loro rimeditazione deve riguardare anche la Germania. A Cerignola nel Voggiano domani grande appuntamento con la nuova edizione della Pesta della Pentolaccia organizzata dall'Associazione SOS Cerignola. L'evento ha visto nel corso degli anni una crescente partecipazione di cittadini e soprattutto di bambini. La manifestazione verrà coinvolta in la parrocchia di Cristo Re, poi anche quella di San Domenico, il centro sociale Don Antonio Palladino, il centro sociale Padre Pio e la scuola di danze, Caraibiche, Todos e in pista. Verranno portati spettacoli e animazioni, punto del lavoro di condivisione di tutti i soggetti ininteressati. E ora occupiamoci, siamo agli approfondimenti della seconda parte di Weekend a sabato, ci occupiamo di bullismo e cyberbullismo. Ieri all'Istituto Comprensivo Don Bosco Battisti c'è stato un incontro informativo a cui hanno partecipato il responsabile della Polizia Postale di oggi a Mazzaino e anche Don Giovanni Pasoli, un esperto di social media. Il tutto si integra in un progetto più ampio che è stato illustrato dalla dirigente scolastica dell'Istituto Pamela Petrillo. Sentiamola!